Ben ritrovati su Telesveva con risultati e classifiche, naturalmente anche sui canali social di News24.city perché abbiamo da raccontarvi una domenica davvero importante soprattutto per il calcio dilettantistico considerando che oggi è partita ufficialmente la stagione della Serie D e dunque almeno del girone H quello che vede impegnato le squadre pugliesi e lucane in particolare assieme ovviamente a quelle campane una parte di quelle campane è partito dunque il girone H di Serie D che riserva già subito delle importanti sorprese le vediamo, le vedremo insomma tra pochissimo un girone che probabilmente sarà molto più equilibrato di quello che si poteva immaginare alla vigilia non ha giocato invece la Serie B a causa degli impegni delle nazionali dunque turno di pausa anche per il Bari di Longo, di Moreno Longo e allora noi ci concentreremo invece sulla Serie C che è scesa regolarmente in campo e che non ha sorriso particolarmente per le squadre pugliesi allora andiamo subito però con ordine partiamo dalla Serie D e da questa prima giornata che vediamo assieme grazie all'ausilio della grafica con i risultati vittoria importantissima e preziosa del Nardò che spazza via tutti i fantasmi rispetto alla gara di Coppa persa con la Fidelisandria vittoria 3 a 2 nella sfida di Angri gara tra le altre cose è cambiata proprio all'ultimo momento dalla LND che ha rivisto il campionato del girone H a causa delle coincidenze tra Gravina e Matera tra le mura amiche e poi il successo invece esterno dell'Ischia a Brindisi vittoria interna con non poche difficoltà del Casarano contro il Costa d'Amalfi Matera-Francavilla 0 a 0 Nocerina-Ugento 1 a 0 anche in questo caso Nocerina altra grande favorita di questa stagione fatica non poco per battere Lugento Palmese-Reala-Cerrana 2 a 0 inizia invece con un pareggio la stagione della Fidelisandria in trasferta in questo caso a Fasano 1 a 1 Fidelisandria raggiunta al 91esimo aveva segnato però qualche minuto prima con Iallo invece l'unica di fatto a convincere sicuramente la Virtus Francavilla 3 a 0 in casa contro il Manfredonia partenza davvero con il piede giusto e poi il successo preziosissimo in trasferta del Gravina contro il Martina La classifica naturalmente a 3 punti le squadre vincitrici Virtus Francavilla, Palmese, Nardono, Cerina, Casarano, Ischi e Gravina a 3 punti Fidelisandria, Fasano, Matera e Francavilla insinio 1 punto tutte le altre a 0 con il Brindisi che resta a meno 12 E allora andiamo a guardarci intanto i gol di Fasano-Fidelisandria ma un po' più in generale tutti quelli che hanno caratterizzato questo pomeriggio delle squadre pugliesi e lucane Guardateli Succede tutto nel finale tra Fasano e Fidelisandria Iallo porta avanti gli ospiti al minuto 86 Orlando pareggia i conti al novantunesimo 1 a 1 al curlo nei primi 90 minuti di campionato per le due squadre in una sfida che permette alla squadra di Iannini di cancellare il passo falso in Coppa contro il Matera e spiega alla Fidelis capace di avviare la stagione con un 6-1 sul campo del Nardò come ogni domenica in D sia diversa dalle altre Le scelte degli allenatori Iannini opta per Vasil nel trio di fantasisti alle spalle di Bolzicco completato da Murgello Savio 4-2-3-1 anche per Danucci Out, Sirri, De Rosa, Bonnini e Krag la novità è Cancelli a destra in difesa in mezzo al campo Gladestoni davanti Fantacci, Iallo, Liurni a supporto di Da Silva 12 minuti e Liurni si attiva crossa per Da Silva respinta per la difesa risolo dai 25 metri controllo e calcio al volo sul fondo di Poco primo giallo della partita per Ganci per un intervento su Fantacci al 22esimo prima slide indoor del match triangolazione Vasil pensa Vasil Ferrara atterra l'attaccante del Fasano e l'arbitro decimo indica il dischetto calcio di rigore eseguito da Bolzicco Esposito rispinge poi si esalta sul tapin di Losavio infine Ballatore da due metri coglie il palo nessun contracolpo psicologico però per il Fasano anzi molto attivo Murgea scambia con Losavio e calcia dai 20 metri sul fondo Graziano di testa su corner di Liurni da destra e l'ultimo highlight del primo tempo della Fidelisandria conclusione alta poi è quasi solo Fasano Bolzicco di testa su crosta sinistra di Murgea colpisce largo di poco azione elaborata poi dei padroni di casa Losavio calce e trova la schiena di Graziano in area Mauriello va al cross da destra volè di Murgea sul fondo ancora da Bolzicco per Losavio in area destro debole e murato da Esposito poi su un corner di Murgea da sinistra Ganci apre il piattone da posizione favorevole ma non trova la porta la frazione si chiude con un episodio da Moviola minuto 42 da Murgea per Losavio steso da Ferrara in campo aperto per l'arbitro decimo e giallo tra le proteste ammonito nell'occasione anche Giannini si va a riposo con un clima elettrico 40 secondi e da Silva di testa anticipa la concorrenza su corner di Liurni blocca bene sulla linea Lombardo dalla panchina Danucci sceglie la Monica out Gladestoni poi è pericoloso di testa anche il Fasano stacco di Onraita su corner di Murgea alto di poco Murgea trova poi doio giusto per Vasil destro dal limite sul fondo buone le iniziative del Fasano fino agli ultimi 15 metri combinazione Bolzicco Losavio-Murgia piattone parato da Esposito su questo destro a giro di Losavio bloccato da Esposito si conclude il poker di occasione per la squadra di casa poi tante sostituzioni fuori Losavio dentro Pussetto Ercoli per Rotondi nella Fidelis Clemente e Signorile per Ganci e Murgea nel Fasano all'86esimo la sbloccano gli ospiti rimessa laterale di Ercoli la difesa non libera e Ghiallo con il piattone batte Lombardo incide anche la deviazione di Clemente Danucci si cautela fuori Ghiallo dentro De Angelis la reazione del Fasano c'è Bolzicco colpisce di testa la parata di Esposito e Super al novantunesimo ecco l'1-1 nel primo minuto dei 5 di recupero pareggia il Fasano punizione di Pussetto la difesa della Fidelis non libera e Orlando da attaccante aggiunto e letale nel battere Esposito punteggio che non cambia nei 4 minuti restanti domenica prossima si torna in campo la Fidelisandria ospiterà il Brindisial degli Olivi Fasano al Miramare contro il Manfredonia Misteriannini lei l'aveva detto alla vigilia sarà una bella partita ecco le emozioni non sono certo mancate no è stata una bellissima partita perché poi anche la Fidelis è una squadra che ti viene a aggredire fa fa dell'aggressione la sua arma diciamo migliore ed è venuta fuori una bella partita mi ha colpito molto un aspetto del suo Fasano solitamente una squadra che sbaglia un calcio di rigore rischia di subire un contracolpo psicologico invece forse è lì che siete diventati più padroni del match no noi noi giochiamo con i nostri principi è successo anche domenica col Matera abbiamo preso quattro gol non ce ne siamo nemmeno accorti abbiamo sempre cercato di fare poi la partita anche in quell'occasione quindi i giocatori sono indottrinati a fare questo a non mollare mai e attaccarsi ai principi di gioco specialmente quando quando le cose vanno in difficoltà quando ci sono delle difficoltà la squadra ha dimostrato di avere attributi di avere qualità di avere idee e le ha messe in pratica Prima ancora di analizzare la gara mister partiamo da quel finale di partita un'andrea che riesce comunque in qualche maniera a sbloccare il risultato poi prende il gol dell'1-1 penso che sia la cosa più brutta da sopportare in una partita del genere Sì siamo stati bravi tra virgolette a cercarci l'episodio giusto nonostante non fossimo una grande giornata di forma è arrivato siamo stati bravi a sbloccarla siamo stati molto meno bravi nel gestire il vantaggio dove abbiamo commesso degli errori c'è stata poca lucidità abbiamo commesso delle grosse ingenuità perché con un uomo di spalle abbiamo fatto un fallo evitabilissimo poi abbiamo perso anche un duello ora non so se ci fosse fallo o meno abbiamo perso un duello lì la palla è rimasta abbiamo preso un gol dobbiamo crescere dobbiamo migliorare molto c'è da gestire meglio tanti episodi oggi avevamo comunque anche un attenuante una linea difensiva che abbiamo dovuto trovare così all'ultimo momento perché comunque avevamo fuori Sirri avevamo fuori De Rosa si è fatto male Bonin quindi abbiamo adattato un po' di gente è normale che magari la manovra ne risente in maniera importante il Costa d'Amalfi fa un figurone ma ci vuole ben altro per infastidire il Casarano i Salentini rispettano i gradi di favoriti vincendo 1-0 con un rigore del solito Nicola Loyodice che ha già messo nel mirino la seconda promozione consecutiva senza gli squalificati Rizzo, Legittimo e Saraniti la terza modella i suoi sulla falsariga della sfida di Coppa con Sambiase dentro l'ogolusso a centrocampo ma cambiare e soprattutto l'attacco con l'esordio dal primo minuto del super colpo di mercato Malcore con lui Ferrara preferito a Perez per completare il 4-4-2 alla prima in D il Costa d'Amalfi conferma l'allenatore del miracolo promozione Cino Proto assente quest'oggi è sostituito dal vice Genco a fare le sue veci in mezzo al campo e invece il figlio Francesco in attacco Maione fiancheggia il giovane Mauri con Iovine esterno nel 3-5-2 dopo 9 minuti il Casarano fa capire chi comanda col classico movimento ondulatorio lo iodice disorienta prima esposito e poi Proto quest'ultimo lo tocca fallosamente in aria ed è calcio di rigore dagli 11 metri Manzi intuisce ma il numero 10 calcia troppo bene palla in buca d'angolo è 1-0 Casarano gli Amalfitani perdono a Mauri per infortunio tocca quindi a Maione suona della carica ha spazio per calciare ma Fernandes intuffa in traiettoria propositivo Martinenco a destra Belcross Opolo e Ferrara si ostacolano mancando il raddoppio a mancare è anche il timbro di Malcore svirgola la prima conclusione poi è bravo e generoso nel mandare al tiro lo goluso parabola alta si attiva il tanto atteso tandem lo iodice Malcore il primo la mette al bacio il secondo insacca la sua maniera ma offside rimandato dunque il primo centro al capozza sfonda non solo da quel lato il Casarano da destra corre veloce Opola egoista ignora Malcore a centro area raccogliendo solo un corner costa da Malfi molto più coraggioso nella ripresa di conseguenza il Casarano comincia ad avere fratelli in contropiede al 64esimo Manzi tiene viva la partita prima si distende sul diagonale secco di Ferrara poi chiude la porta a Perez entrato al posto di Malcore la terza manda in campo anche Dalena e Versienti i due apparecchiano per lo iodice che non impensierisce Manzi Versienti si mette in proprio al minuto 89 converge verso l'interno Mancino a salve sopra la testa di Manzi ultima emozione ancora ad opera di lo iodice potta secca ma zero Patemi per l'ottimo portiere Campano pronostico rispettato insomma tra caldo e una condizione ancora approssimativa il Casarano passa il primo dei 34 esami stagionali seppur senza mostrare il suo reale potenziale nel prossimo turno nuovo faccia a faccia appulo Campano in casa della Cerrana il Costa D'Amalfi attende la Nocerina altra seria candidata alla promozione diretta dopo due stagioni per cuori forti non ha nessuna voglia di soffrire il Gravina i Murgiani partono col piede giusto prendendosi lo scalpo del Martina seconda forza dell'ultimo campionato a fermare il colpo del Tursi ci pensa Aldo Bans il cui gesto tecnico al volo vale a contifatti tre punti per il Martina lontano parente di quello pimpante visto in Coppa pesa come un macigno il penalty fallito dalla Monica nel finale nuovo volto per il Martina dopo il mercato Pizzulli mantiene Tuccitto e Mancini terzini nel 4-2-3-1 a cambiare e soprattutto l'attacco curiosità nel vedere all'opera il 2006 finlandese Colin Dabawege rispondono alla voce sicurezza invece gli innesti di Silvestro e Russo schierati esterni cambia molto il Gravine a partire dalla panchina c'è Luca Tiozzo al timone con l'intento di riscattare un finale deludente a Fasano nel 4-2-3-1 Stauciuk schierato falso 9 con il trio Keita Cavaliere Banzi a sostegno fondamentale la conferma di Chiaradia nel pacchetto arretrato è rimasto a Martina anche Savio Piarulli al terzo minuto esplora la soluzione da fuori ma suona solo come un avvertimento per Zanin molto ordinato quando riparte il Gravina Cavaliere si muove centralmente chiamando Figliola al colpo di Reni la sorpresa che non ti aspetti arriva al diciottesimo bene il Gravina in pressione Keita si libera in aria e Pennella per l'acrobazia al volo di Banzi primo gol in maglia murgiana e che gol 0-1 Gravina al Tursi il Martina reagisce di nervi Russo sfonda in aria cogliendo il tocco di Fustar il signor Petraglione indica l'ex Barletta e Andra di rialzarsi tra le proteste dalla panchina oggi guidata dal vice Moncelli attivo Cavaliere bella punizione ma Figliola è una certezza respingendo lateralmente ecco Silvestro cross col contagiri per l'alto esterno Russo che schiaccia fuori di un soffio e il Martina non riesce a tamponare la velocità degli esterni del Gravina Banzi arriva al limite mettendo sul fondo nel recupero altro duello dalla distanza Cavaliere Figliola a vincere è nuovamente il numero uno di casa dagli spogliatoi non rientano l'opaco da Bawage e Mancini dentro la Monica e Carucci dall'altro lato sempre in moto Cavaliere altro tentativo da fuori niente da fare l'area del Gravina diventa terra di mistero anche al 48esimo il Martina protesta per l'atterramento di Silvestro ma si gioca Moncelli richiama anche Mastrovito per Marinelli ma il Gravina mangiarsi lo 0-2 Banzi prova a ricambiare il favore a Keita il Mauritano a porta vuota riesce a sbagliare così errore da matita blu che rischia di costaccare l'88esimo questa volta l'arbitro sanzione il contatto grumola a Monica dal dischetto ci va lo stesso attaccante Campano che colpisce il palo a zane imbattuto il Martina si mangia le mani e il Gravina punta a chiudere in contropiede Santoro scappa via mettendo fuori davanti a Figliola colpo assolutamente non banale quello messo a segno dei Murgiani che visse nel successo dello scorso anno cominciando nel migliore dei modi nel prossimo turno il saluto del vicino coinciderà con l'arrivo della Palmese per il ferito Martina suggestivo viaggio direzione Isi un tris che spazia via i fantasmi di questo inizio stagione per il Nardò di Fabio De Sanzo che parte con il piede giusto ad Angri vincendo per 3 a 2 anche grazie a un super male Ticino avanti è proprio lui a guidare l'attacco nel retino dove non trova posto gatto rispetto alla disastrosa gara di Coppa Italia di sette giorni fa ma c'è invece Migli a rinforzare la zona mediana del campo Dan libero di svariare dall'altro lato il tandem Tandara Messina per il tecnico Scorsini per una squadra completamente nuova rispetto alla scorsa stagione parte meglio il Nardò con le conclusioni di Delvino e Maletich che non impensieriscono però Viscovo ma al primo vero affondo Erdoglia che ribatte in rete con il tacco un calcio di punizione battuto profondo da Simone e Danna il vantaggio galvanizza gli ospiti che continuano a premere sull'acceleratore e spazzano via le paure di inizio match Migli ci prova centrale la sua conclusione Maletich calcio un rigore in movimento a centro area decisiva la deviazione di Ciriello in corner dall'altro lato sono Messina e Pappalardo a provare a costruire qualcosa di buono in avanti ma in entrambi i casi si salva la retroguardia del Nardò e anche la parola fine sul primo tempo nella ripresa subito forte la partenza dell'Angri con Messina che ha la palla buona per pareggiarla sfera alta e difesa Neretina però assolutamente da rivedere al primo affondo della ripresa trova subito il raddoppio la squadra di De Sanso questa volta è Ciracì a sgroppare sulla fascia destra il cross preciso in aria dove Maletic non deve far altro che spingere il pallone in rete neanche due giri di lancette il gigante bosniaco fa doppietta personale e tris per gli ospiti sempre da destra questa volta il cross di Dan sempre troppo spazio per Maletic che incrocia il diagonale e batte ancora Viscovo per lo 0-3 dopo neanche 5 minuti da inizio ripresa il gol è una doccia gelata per i padroni di casa che però puntano sull'orgoglio per provare a riaprirla ci pensa subito Tandara ad accorciare le distanze il numero 9 di casa riceve palla al limite e si gira benissimo mettendo la palla all'incrocio dove De Luca proprio non può arrivarci sempre l'attaccante dell'Angri diventa protagonista attorno al ventesimo quando si trasforma in assistman questa volta per Messina che davanti a De Luca non sbaglia e riapre definitivamente la contesa sempre Tandara e poi Messina mettono i brividi alla retroguardia del Nardò in grande difficoltà decisivo il primo intervento distinto di De Luca nonostante il forse in finale comunque finisce con il successo dei Neretini che partono con il piede giusto in campionato e scacciano i fantasmi della Coppa domenica sarà sfida interna contro il Matera al Giovanni Paolo II mentre per l'Angri sfida esterna a Dugento abbiamo fatto il primo tempo che secondo me andare a riposo con 1-0 era risicato perché se ci mettevano un po' più di cattiveria secondo me potevamo fare anche qualche gol il primo tempo secondo tempo abbiamo cominciato bene siamo andati in doppio vantaggio e triplo vantaggio però dopo secondo me un pochettino ci siamo cullati sono usciti loro fuori bisogna dirlo anche perché hanno fatto un paio di gol il primo bello secondo me il secondo un po' c'era viziato dal fallo però oggi ho visto una squadra diversa rispetto alla prima di Coppa Italia per 60-70 minuti che ancora ci mancano gli ultimi 20 minuti finali però abbiamo saputo soffrire ci siamo saputi difendere e credo sono sicurissimo la vittoria è meritatissima il gol dell'ex Favetta al 79esimo decide la sfida tra Brindisi e Ischia finisce 1-0 per i campani il match del Fanuzzi mister Monticciolo all'esordio sulla panchina dei Messapici certamente immaginava uno start diverso partita viva e con diverse emozioni nonostante la sola rete siglata nel primo tempo all'ottavo errore di Pastore che per poco non manda in porta Mokulu Giannacone esce in presa Lischia alza i giri del proprio motore 13esimo corner campano Milan salva quasi all'incrocio poi subisce fallo al 15esimo Lischia insiste prima con Giacomarro Murato poi con Battista sfera deviata in corner dallo stesso angolo Pastore di testa manda al lato di poco al 32esimo prova a reagire il Brindisi Lucchese da lontano facile per Giannacone al 42esimo il cross di Florio trova Favetta tutto solo in aria coordinazione da rivedere occasione Brindisi al 44esimo pallone velenoso in aria Ricci da due passi non aggancia poco dopo lo stesso Ricci ci prova in rovesciata fuori misura al 49esimo al termine di un lungo recupero Matera va vicino al gol Milan gli dice di no e salva i padroni di casa stesso Canovaccio ad inizio ripresa al 51esimo sale in cattedra Quirino destro alzato in corner da Milan due minuti più tardi Battista manca l'appuntamento con il gol conclusione mancina da rivedere al settantesimo ci prova ancora Quirino palla centrale blocca il portiere Brindisino ma il gol Campano è nell'aria e arriva al 79esimo trofa calcio in porta Milan para ma non trattiene Favetta sulla ribattuta è implacabile Ischia in vantaggio Alfanuzzi con la rete dell'ex i padroni di casa provano a reagire ma l'83esimo il tiro di Dellino viene sporcato Iannacone blocca al 93esimo Danna in contropiede non la chiude Milan riesce nella deviazione a tu per tu Brindisi sbilanciato in avanti che concede un'altra ripartenza all'Ischia al 96esimo questa volta è Talamo a farsi ipnotizzare da Milan finisce così con la vittoria all'esordio dell'Ischia Brindisi che resta meno 12 punti frutto della penalizzazione da scontare in classifica nel prossimo turno operazione di scatto per i messappici ad Andrea contro la Fidelis Ischia che esordirà in casa affrontando il Martina la decide uno degli uomini più attesi nel pomeriggio del San Francesco e più in generale della stagione della Nocerina il gol di D'Agostino nel finale di match a decidere la sfida per i Molossi che partono con il piede giusto in casa contro un Ugento che tiene per oltre 85 minuti il campo all'esordio in Serie D due boe centrali per i due tecnici a guidare gli attacchi delle due squadre con Ferrari da una parte e Baglietti dall'altra a tenere più alti gli schieramenti Novelli poi si affida alla classe di D'Agostino e alla Verve di Vono a destra per scardinare la difesa Ugentina con Oliva che invece si affida all'esperienza di Ancora e agli sprint di Gimenez ma è subito pericolosa la Nocerina in avvio con la conclusione di Vono che si vila alla destra di Di Donato al quinto però arriva subito l'episodio che può trasformare il match cross profondo in area di D'Agostino e Iborra viene colpito ad un braccio dal pallone solo sfiorato da Cristiani il direttore di gara però non ha dubbi ed è penalty dal dischetto si presenta lo stesso Stefano D'Agostino che però si fa parare la conclusione bassa e centrale da Di Donato il rigore è parato vale come una scossa per Lugento che prova subito a mettere in difficoltà la Nocerina con il gran sinistro di Bagietti attento in corner Worsitsky e poi Gimenez a mettere i brividi per due volte la retroguardia di casa con una incursione da destra neutralizzata dall'estremo difensore della Nocerina la replica di casa però arriva nel finale di frazione con il colpo di testa di Ferrari su cui Di Donato non arriva a dirgli di no la ripresa assume ritmi decisamente più bassi della prima frazione di gioco la partita è molto spezzettata e le occasioni latitano da una parte e dall'altra ma a quattro minuti dal termine ecco il jolly del capitano della Nocerina D'Agostino avanza palla al piede calcio potente e preciso per superare Di Donato e concedere i tre punti alla squadra di Novelli tanta delusione per i salentini di Oliva che avevano accarezzato l'idea di poter portare a casa il punto all'esordio in Serie D per Lugento contro l'Angre sconfitto all'esordio dal Nardò la Nocerina invece se la vedrà contro il Costa da Malfi Comincia con un pareggio l'avventura di Matera e Francavilla Insini nel girone H di Serie D al 21 settembre Franco Salerno il derby Lucano termina 0-0 poche emozioni e occasioni nel primo tempo e il Matera di Mister Ciullo a farsi pericoloso per primo Napolitano sbuca in aria con una deviazione non lontano dallo specchio risponde il Francavilla di Nolè la punizione di Macri quasi dalla linea laterale si stampa sulla traversa a fine primo tempo proteste in casa Matera per un presunto calcio di rigore il contatto è tra Esposito e Russo con quest'ultimo finito a terra dolorante per l'arbitro non c'è fallo in avvio di ripresa Cipolletta ha una grossa chance in aria per portare avanti il Matera deviazione miracolosa di Pellegrini che salva il Francavilla Insini gol che sembrava praticamente fatto gli ospiti ci provano da lontano con Gentile nessun problema per Braia che vede il pallone uscire abbondantemente prima del triplice fisco riecco il Matera pericoloso punizione di Sicurella calciata sul secondo palo dove sbuca Cipolletta che tuttavia manca l'aggancio ultima emozione di Matera Francavilla Insini nel prossimo turno i ragazzi di Mister Ciullo faranno visita al Nardò Francavilla che invece ospiterà i pugliesi della Virtus replica del match giocato nei preliminari di Coppa Italia i ragazzi di Nolè proveranno a cambiarne l'esito Siamo stati un po' contratti però abbiamo anche una volta anche delle situazioni importanti e buone anche al primo tempo abbiamo due o tre situazioni importanti con Pirola con il sedimento di Pirola con anche con Bursio stesso però loro hanno diviso molto bene loro hanno fatto una partita a corta cercando di di concedere poco anzi non c'erano concesso quasi nulla secondo tempo invece siamo entrati più determinati siamo stati più determinati siamo andati vicino al gol è stata un'occasione di Cipolletta dove è stato bravo l'avversario a naturalizzarla con quella scivolata le altre due situazioni potevamo fare ancora meglio poi questo è un partito che rischia anche di perderla sicuramente abbiamo fatto una una buona gara mi aspettavo una reazione del genere dai ragazzi dopo l'ultima uscita in Coppa Italia così è stata siamo siamo stati compatti abbiamo penso subito pochissimo anzi forse forse appunti qualcosa in più in più noi però prende il punto comunque fuori casa a Matera con una squadra comunque attrezzata per i piani alti quindi è già è un punto un punto importante adesso ci fermiamo pochi istanti per la pubblicità risultati classifiche torna tra pochi minuti non andate via nuovamente assieme con risultati classifichi abbiamo da guardarci i gol della Serie C ma anche quelli dell'eccellenza insomma è un'eccellenza che riserva davvero tante emozioni partiamo però subito dalla Serie C una giornata come detto che non sorride tanto le squadre pugliesi in particolare all'Altamura sconfitto a Potenza ma dal Sorrento che gioca appunto le sue gare casalinghe in terra Lucana e sconfitta pesante anche quella nell'anticipo del Taranto a Messina non va oltre un pari invece il Picerno con la Casertana Picerno che interrompe di fatto la serie positiva di vittorie che l'avevano rilanciata verso la vetta della graduatoria andiamo a vederci queste tre gare niente scossa rimedia in avvio di ripresa ad una situazione di momentario svantaggio ma poi il team Altamura subisce il sorpasso definitivo del Sorrento vincono 2 a 1 i costieri al Viviani di Potenza morale della favola i campani confermano l'imbattibilità in questa Serie C e balzano a quota 7 punti in classifica i Murgiani invece restano fermi al palo dopo tre giornate di campionato niente scossa dunque dopo le sconfitte contro Crotone foggia per gli uomini allenati da Daniele Di Donato seguiti in trasferta da circa 250 sostenitori la VO è favorevole ai padroni di casa scesi in campo in maglia bianca Bolsius ex Fidelis calcia da posizione interessante blocca in due tempi Piola il Sorrento passa comunque tre minuti più tardi lo stesso Bolsius lavora il traversone della corsia mancina De Francesco si fionda sul padrone bagate e non lascia scampo all'estremo ospite 1 a 0 reazione Altamura prima di metafrazione Poggesi crossa Del Sorbo allontana con i pugni dipinto spedisce a lato con il mancino buon finale di tempo per i pugliesi cross di Rolando testa di Lionetti pala sul fondo spingono sull'acceleratore gli altamurani ma il parziale non cambia sino a metà gara 1 a 0 Sorrento al riposo la seconda frazione si apre decisamente nel segno degli ospiti clamoroso il palo colpito dopo una manciata di secondi da Sabatani a Del Sorbo praticamente battuto un minuto dopo però il pari è servito Tamico entrato in avvio di ripresa al posto di Grande si ritrova il padrone tra i piedi con il destro fa centro anche con la complicità del portiere dei Campani 1 a 1 al Viviani di Potenza l'equilibrio tuttavia dura pochissimo perché alla prima occasione utile il Sorrento torna avanti e Bolsius al termine di un'azione individuale a battere così Viola 2 a 1 Campani ad un passo dall'allungo quando Guadagni sfiora il bersaglio da posizione interessante prima dell'ora di gioco su punizione dal limite la squadra di Didonato nonostante gli inserimenti di Palermo e Peschetola dalla panchina non punge in avanti sono i padroni di casa nel finale a sfiorare il triscon Colangiuri finisce 2 a 1 per il Sorrento l'Altamura perdi ancora e domenica prossima ospiterà San Nicola di Bar il Benevento una delle big del girone un solo punto in tre partite due rigori subiti in tre gare il Taranto crolla Messina nel secondo tempo senza attenuanti 4 a 1 il risultato in favore dei Peloritiani stesso schema di partenza 4-3-3 nel Taranto di Gautieri si vede dal primo minuto Sciba in difesa Ardizzone confermato a centrocampo l'attacco è formato da Zigoni Guaracino e Fiorani che viene spostato in avanti al sesso il Taranto passa in vantaggio con un cross di Guaracino Ardizione di testa palla che bacia il palo dentro in rete 1-0 per gli Ionici sedicesimo azione in verticale del Messina Anatriello per Luciani Del Favero esce ma tocca il giocatore messinese calcio di rigore si presenta sul dischetto Luciani 1-1 nonostante il portiere Ionico intuisca la traiettoria del tiro al venticinquesimo azione più clamorosa del Taranto Fiorani tutto solo davanti al portiere di casa invece di tirare passa al centro per Matera che non ci arriva per un istante Kurtosi ringrazia ripresa shock da parte del Taranto che praticamente resta negli spogliatori nei primi 5 minuti dopo pochi secondi infatti Dia dalla destra per Garofalo pallone in porta 2-1 e sorpasso del Messina tempo di mettere il pallone a centrocampo tiro improvviso di Pedicillo palla a lato di poco bravo a girarsi in area di rigore gol del 3-1 che viene rimandato soltanto di pochi secondi al quarto infatti Ortosi dalla sinistra close per Anatrello tutto solo gol del 3-1 il Taranto è in crisi totale 5 minuti di recupero accade che al 47esimo c'è una punizione di Petrungaro dal limite palla di poco a lato il destro un minuto più tardi da parte di Fabro molto alto e poi Frisenna praticamente da fermo si inventa un destro che finisce nel 7 alla destra di Del Favero finisce 4-1 e il Taranto resta in fondo la classifica il Picerno non riesce nel tris di vittorie consecutive la Casertana torna a far punti ma non trova ancora la prima vittoria in campionato 0-0 al Curcio nella terza giornata del gruppo C di Serie C le formazioni nel Picerno Tomei opta per Maiorino riferimento avanzato supportato da NRG Petito e Esposito nel 4-2-3-1 modulo speculare per gli ospiti di Manuel Iori sulla tre quarti si rivede Carretta dal primo minuto con Deli e Galletta in avanti debutto per Satriano per la prima occasione occorre attendere il decimo e tocca alla Casertana Carretta con una pregevole giocata libera Satriano al tiro dal limite dell'area a sinistro forte che summa respinge in tuffo risponde il Picerno a gancio di Maiorino che entra in area calcia Zanellati risponde presente sul primo palo ritmi che calano con il passare dei minuti Falasca ci prova su punizione e trova la deviazione di Franco traiettoria che non inganna summa nel finale di frazione improvvisa impennata di emozioni Franco mira l'incrocio dei pali ma Zanellati si esalta e ci mette i guantoni poi su un pallone perso in uscita dal Picerno Satriano viene servito tutto solo in area ma la sua conclusione neutralizzata dall'attento summa Zanellati completa il suo primo tempo da applausi respingendo così il destro forte e preciso di Esposito ultima occasione del primo tempo Iori lascia negli spogliatoi galletta per Mancini e il neò entrato è subito pericoloso sterzata e sinistro forte alto di poco Tomei inserisce a metà frazione Pitarresi Vitali e Volpicelli quest'ultimo si presenta calciando dai 25 metri palo sfiorato la più grande chance del secondo tempo è però per Vitali lancio di Franco taglio dell'esterno che supera Zanellati con un lob ma trova sulla linea il prodigioso intervento di Gatti a negargli la rete su questo flipper generato dal calcio di punizione di Volpicelli si spengono le velleità del Picerno di ottenere la terza vittoria su altrettanti tentativi in campionato 0-0 al Curcio Lucani a 7 punti attesi sabato sera dalla trasferta di Catania Casertana che sale a 2 è pronta sabato prossimo a ospitare la Turris eccoci adesso al torneo di eccellenza Barletta che continua a vincere e a convincere successo in trasferta a Canosa in un San Sabino sold out presumibilmente record di presenze a Canosa vittoria preziosissima per gli uomini di Decandia il Bitonto giocherà invece domani in posticipo andiamo a vedere però con l'ausilio della grafica tutti i risultati di questa giornata e pari tra Arbori Sbelli e Atletico Racale 0-0 vittoria come detto del Barletta 2-0 a Canosa poi Corato Foggia in Cerite 0-0 Manduria Polimnia prezioso il successo del Polimnia esterno 0-1 Novoli Bicelli invece 1-0 Bicelli che continua a non riuscire a schiodarsi di fatto dal successo in questo caso sconfitta Novoli Massafra Galatina 2-2 Unione Calcio Bicelli e perde in casa contro il Brillacampi 0-2 Ginosa Nuova Spinazzola 0-0 e poi Gallipoli Atletico Acquaviva 3-1 come detto Molfetta Bitonto sfida invece esterna che si giocherà domani alle 20 allora Barletta in vetta con 9 punti inseguono Gallipoli Polimnia e Novoli poi il Bitonto ovviamente con una gara in meno insieme a Brillacampi a 6 punti Galatina 5 Nuova Spinazzola Manduria Atletico Racale 4 Atletico Acquaviva Ecanosa 3 Fogge Incedit 2 Massafra Arborisbelli Bicelli Ginosa Unione Calcio Bicelli 1 Molfetta 0 sempre con una gara in meno nel Corato con il meno 1 e allora andiamo a guardarci le sfide principali di questa giornata in questo girone davvero intenso di eccellenza 14 minuti per sbloccarla con un delizioso destro a giro di Lavopa quindi il colpo del KO a metà ripresa grazie ad un rapinoso guizzo del 19enne Leone così il Barletta espugna il San Sabino e cala il tris consecutivo di vittorie legittimando la leadership prova nel complesso solida e autorevole per il collettivo Biancorosso al cospetto di un Canosa troppo timoroso in partenza e raramente insidioso dalle parti di Massari il tecnico rosso-blu di Simone opta in avvio per il 3-5-2 con Castro al fianco di Sani in prima linea mentre il collega di Panca De Candia rinuncia a strambelli alle prese con un virus intestinale oltre allo squalificato Bottalico e all'infortunato Giambuzzi confermando il 3-4-3 con l'attanzio terminale centrale sostenuto da Lopez a destra e Lavopa a sinistra il primo spunto si registra al sesto Lavopa si avventa su un pallone vagante in aria sorprendendo i centrali di casa ma la sua zampata risulta alta l'incipit spigliato del Barletta è certificato dal vantaggio a ridosso del quarto d'ora Lopez si produce in una prepotente percussione sulla tre quarti con successivo scarico all'indirizzo di Lavopa la cui soluzione a giro si infila nell'angolo più lontano superando vicino per la legittima esultanza dei mille tifosi biancorossi al seguito scosso dallo svantaggio il Canosa prova a reagire al venticinquesimo con una veletaria conclusione di Solano dai venti metri finita oltre la traversa approfittando di una lieve flessione ospite l'undici rosso-blu si rende insidioso al trentaseiesimo con un cross dalla destra di Milano agganciato sotto misura in scivolata da Sani facile preda tuttavia dell'estremo rivale quattro minuti più tardi il capitano Canosino Gomez incorna alle spalle di Massari la punizione di Solano ma il casertano Aprile annula per fuorigioco su segnalazione dell'assistente il gran caldo influisce negativamente sui ritmi di gioco nella ripresa con Tacquino immacolato fino al ventiduesimo allorché la macchia su invito di Gomis imbuca la sfera nel cuore dell'aria costringendo la retroguardia barlettana ad allontanarla con una certa prensione al venticinquesimo il Barletta replica con un tentativo ravvicinato di Lopez che si perde a lato quindi pochi istanti dopo ecco il raddoppio con cui la capolista blinda il colpaccio vicino in becca Solano che si lascia però soffiare il pallone dal neo entrato Leone lesto ad incunearsi in aria e a gonfiare la rete con un preciso mancino di fatto non accade più nulla fino al termine con il Barletta abili a gestire il risultato a spese di un Canosa a cui i tifosi non risparmiano critiche nell'immediato post partita domenica prossima Lattazio e compagni saranno di scena al Puttilli contro il Manduria mentre per il Canosa è in programma l'incrocio esterno ad alta tensione con un Biceglie in palese difficoltà Oggi interessava vedere la reazione dopo la battuta d'arresto di Galatina e ho visto che comunque la squadra ha reagito bene ha tolti i primi dieci minuti dove loro sono partiti forte però poi penso che la partita è stata in equilibrio abbiamo avuto qualche situazione per rimetterla comunque in piedi poi dopo l'episodio purtroppo ci ha tagliato un po' le gambe però bisogna continuare a lavorare bisogna crescere lo sappiamo ci dispiace per i tifosi però bisogna capire che come ho detto la settimana scorsa è un gruppo nuovissimo e quindi bisogna avere un po' di pazienza il campionato è lungo io capisco che le aspettative sono alte però bisogna avere anche un po' di capacità un po' di pazienza La cosa positiva di oggi oltre all'approccio alla gara poi siamo stati bravi anche dopo il gol a continuare la cosa negativa che dopo il gol abbiamo continuato per altri 5-10 minuti e poi dopo invece abbiamo abbassato un pochettino il ritmo e questo ha dato la possibilità alla squadra avversaria di prendere il coraggio e di impensierirci cosa che non dovevamo assolutamente fare perché abbiamo detto in premessa e l'abbiamo verificato oggi che è una squadra forte quindi non andava assolutamente dato la minima possibilità di poterci fare male invece noi siamo stati un po' ingenui abbiamo abbassato un po' il ritmo e loro sono venuti fuori hanno fatto una buona seconda parte del primo tempo una bruttissima prima parte della seconda parte del primo tempo bene invece di nuovo l'approccio nel secondo tempo e bene tutto il secondo tempo quindi sono contento un finale da pazzi e un gol sbagliato da non credere negano lo Spinazzola la settimana perfetta tra campionato e Coppa e 0-0 Almiani contro il Ginosa che ottiene il primo mezzo sorriso della sua stagione e della gestione Genchi d'altro canto lo Spinazzola rompe l'induci nell'ultimo quarto d'ora con i lenni di Diomandè Zaldua prima dell'erroraccio di Ducure sul gong toppato le sorti in Coppa il fresco allenatore Ginosino Giuseppe Genchi vuole muovere la classifica dei suoi fiducia a Babboa punta centrale nel 4-3-3 alle noci e fede il compito di sostenere Gatto e Vapore sulle fasce cambia qualche uomo rispetto alla bella affermazione in frasettimana Rezzin Follino nel 3-4-3 riprendono posto De Giuse in difesa Solì è in mezzo al campo e la coppia di esterni i Bux cappellari in attacco torna Ruibal con Ducure e Leonetti quest'ultimo preferito a Zaldua fuori dai convocati pedine importanti come Paolillo Palermo e Bonanno e il pressing il marchio di fabbrica del collettivo spinazzolese il portiere Castiglione ci mette del suo Bravo poi a respingere il fendente di Diomandè il gran caldo e un intoppo di Levante tra i 22 in campo dopo un'altra aggressione alta al tiro ci va Soria bella parabola a scheggiare il palo alla sinistra di Castiglione cresce con il passare dei minuti il Ginosa gira attorno al fantasista Vapore il gioco degli uomini in maglia gialla al 32esimo prepara bene ma svirgola il destro a giro la grossa chance per i padroni di casa arriva al terzo di recupero bell'anticipo di Patronelli che si sgancia e va da vapore un'occhiata a centro aria alla Zazzara ostruito dall'alto numero 7 Bux si chiude il primo tempo con segnali confortanti per Genchi soprattutto sull'atteggiamento o la tenuta difensiva non memorabile invece la prova di Balboa sostituito all'intervallo da Richella Zinfollino cambia allora di gioco Staffetta Leonetti Zaldua energico l'ingresso dell'argentino tocca un gran numero di palloni qui prepara la conclusione parte bene spegnendosi però sul fondo lo Spinazzola guida le operazioni ma non perfore il muro giallo del Ginosa più sprint a sinistra con la novità Bellino che comincia ad arare la corsia cross sbagliato Castiglione riesce comunque a difendersi in corner il Ginosa cala e lo Spinazzola comincia ad assaporare il bottino pieno Diomandè stacca con i tempi giusti sul primo palo il gol è cosa fatta ma il palo ha idee diverse Legno non benevolo neanche nei confronti di Zaldua Breck Spinazzolesi a centro campo il classe 88 tira la bordata sputata via dalla traversa Genchi pesca dalla panchina per dare più ossigeno ai suoi il Ginosa dipende tuttavia dalle giocate di Giovanni Vapore al quinto di recupero alla palla buona per l'1-0 mettendo fuori da buona posizione doccia vicina ma altra occasionissima in arrivo Castiglione difettoso nell'uscita bassa la palla carambola dalle zone di Ducurè che a porta vuota manda incredibilmente alato 0-0 e tanto rammarico per lo Spinazzola i punti diventano 4 ma la sensazione è quella di averne lasciati 2 per strada segnali positivi anche da parte del Ginosa lo 0 in classifica diventa un ricordo ma da più soddisfazione è il primo clean sheet dopo le 8 reti subite nelle prime 3 uscite ufficiali in campo si torna domenica 15 settembre per la quarta giornata il Ginosa fa visita all'atletico acquaviva per lo Spinazzola test interno contro l'Arborisbelli va in scena la terza giornata del campionato di eccellenza pugliese al Fausto Coppi di Ruvo di Puglia è 0-0 tra Corato Calcio e Foggia Incedit nella prima frazione il Corato è complessivamente in controllo ma il Foggia rendersi pericoloso per primo al tredicesimo con Dascoli che approfitta di un'indecisione della retroguardia nero-verde e conclude trovando però la Cirignola attento che deve in angolo ancora Foggia ancora Dascoli pescato dal lancio di Rubino ma il tentativo è di poco alto il primo squillo del Corato arriva da un'azione costruita a centrocampo con Corato che trova Frappampine in area ma il suo destro potente è controllato da Tigre Dascoli si conferma il più pericoloso degli ospiti e prova al trentottesimo a mettersi in proprio ma il tentativo è debole e largo nel finale di primo tempo grande doppia occasione per il Corato Fanelli su punizione trova la spizzata di Dispoto che finisce di poco a lato azione in fotocopia due minuti dopo ma la girata del capitano nero-verde questa volta è ancora larga di poco nel secondo tempo l'inerzia del match non cambia e sono subito pericolosi padroni di casa Volpe combatte Frappampine raccoglie ma la sua zampata viene deviata in calcio d'angolo costruisce ancora il Corato ed Alba lascia partire un diagonale su cui Tigre risponde presente al minuto 34 la sponda di Sicla ritrova a Bevilacqua che può partire in contropiede ma viene ostacolato da Rantuccio e la sua conclusione non impenserisce la Cirignola al trentanovesimo è ancora Corato Volpe serve Mastrapasqua che ci prova dal limite ma non riesce a trovare lo specchio della porta il Corato ci prova fino alla fine ma non trova il gol nemmeno sul colpo di testa di Rantuccio arrivato negli ultimi istanti di gara un punto a testa quindi per Corato Calcio e Foggia Incedit la prossima giornata vedrà il Corato impegnato in trasferta a Galatina mentre il Foggia ospiterà il Novoli tra le Muramiche un'ottima prestazione noi sapevamo che sarebbe molto difficile perché Incedit Foggia l'anno scorso ha vinto qua e ha vinto da loro abbiamo perso sei punti contro di loro è un'ottima squadra che lotta su tutti i palli e poi giocano con il contrasto tutto quanto noi dovevamo fare la nostra non c'è niente da dire ai ragazzi gli ho fatto i complimenti il campionato è lungo dobbiamo guardare solo a noi stessi e andare avanti No, occasione persa ma vista la prestazione di punto guadagnato perché la prestazione oggi a me è piaciuta siamo stati lenti abbiamo fatto le prime tre partite dove avevamo fatto molto di più ma oggi abbiamo fatto un passo indietro e quindi bisogna ritornare con i piedi per terra perché forse pensavamo di stare sulla strada giusta oggi abbiamo fatto un passo indietro e dobbiamo lavorare per ritornare a fare meglio La prima vittoria che tarda quindi ad arrivare potete fare meglio in sostanza nel futuro? Sì, sì ma credo di sì perché poi visto le prime tre partite che abbiamo fatto le due di campionato e di Coppa sicuramente meritavamo qualcosina in più ma oggi forse la più brutta prestazione di quest'anno abbiamo fatto un passo indietro e quindi dobbiamo fare di più e allora con questo è davvero tutto però prima di chiudere vi ricordo il parinsesso sportivo del lunedì che torna praticamente normale di fatto con l'avvio anche della stagione della Fidelisandria si parte alle 15 con Super Mario Sport per insomma raccontare quanto accaduto soprattutto in sede di ed eccellenza ma non solo uno sguardo anche alla Serie C il salotto di Mario Borracino i suoi ospiti a sera 20 e 15 invece arriva e torna anzi chiacchiere da Bari nonostante lo stop del Bari in campionato si parlerà con Luca Guerra Daniele De Vezze Stefania De Michele i tanti ospiti del programma si parlerà proprio del Bari e di quello che è il momento difficile che sta attraversando la formazione barese e poi parte di fatto primo appuntamento compagni amore e Fidelis alle 21 e 15 ci saranno sempre Aldo Losito e Peppino Ernesto con i loro ospiti per raccontare questo pari della Fidelisandria con il Fasano alla prima uscita stagionale in campionato e poi l'ampia sintesi alle 23 e 10 proprio di Fasano Fidelisandria con il commento di Luca Guerra e il commento tecnico di Peppino Ernesto risultati classifiche torna invece domenica prossima ma ormai insomma è un appuntamento assolutamente fisso da non perdere sempre su Telesveva e su news24.city allora ci vediamo la settimana prossima grazie a tutti grazie a tutti